Rieccoci insieme, allora protagonista di questa prima parte della nostra trasmissione è Nicola Dell'Acqua, direttore di Veneto Agricoltura, ben arrivato qui con noi. Grazie, buona giornata. Allora ci fa molto piacere perché con questo ente regionale sostanzialmente possiamo fare un po' il punto a grandi linee di quello che è lo stato dell'arte dell'agricoltura, anche sotto il profilo della sperimentazione, innovazione, tecnologia applicata, problematiche, dinamiche, perché voi vi occupate ad ampio spettro di varie questioni e quindi può essere interessante capire che cosa sta succedendo nella nostra regione, a che punto siamo al di là di quando noi affrontiamo l'agricoltura vista dall'associazione di categoria che soppesano più danni benefici per chi lavora in agricoltura. E allora per spiegare ai nostri telespettatori proprio in due parole, che cosa fa Veneto Agricoltura? Sì, Veneto Agricoltura ha come scopo principale quello dell'innovazione in agricoltura e la sperimentazione. Noi siamo quell'ente regionale che mette in atto una sperimentazione come diciamo noi in scala 1-1, cioè abbiamo delle aziende agricole di dimensioni notevoli dove vengono diciamo coltivate le novità culturali dell'agricoltura in generale e vengono sperimentate anche determinate lavorazioni culturali, cioè dei ettari di terreno dove simuliamo quello che deve fare il normale agricoltore e dopo segnaliamo quali sono i risultati avvenuti. Però Veneto Agricoltura non fa solo queste sperimentazioni, gestisce anche aree naturali, abbiamo in gestione tante aree naturali, abbiamo in gestione le foreste, ex foreste dei Magnali adesso regionali, stiamo parlando di quasi 14 mila ettari di foreste e poi abbiamo gli operai che seguono insieme alla Regione Veneto nel settore difesa del suolo e forestale della Regione Veneto, quelli che seguono diciamo l'assetto idrogeologico del territorio, sono i veri e propri operai che eseguono direttamente per la Regione Veneto alcune attività idrogeologiche nelle foreste soprattutto. Di monitoraggio o proprio di azione? No, Veneto Agricoltura è di azione, diciamo che i monitoraggi li fa sostanzialmente sempre un'altra ente della Regione che è ARPAV, le lavorazioni vengono decise dall'assessorato alla difesa del suolo, mentre gli operai di Veneto Agricoltura realizzano fisicamente queste opere idrogeologiche. Questi sono i tre grossi aspetti, le tre grosse famiglie che Veneto Agricoltura segue. Ecco, quindi per portare anche l'agricoltura a livelli più elevati di evoluzione sostanzialmente, no? Ed evoluzione tecnologica, di applicazione di qualcosa che viene sperimentato prima e che può aiutare a crescere l'agricoltura, giusto? Assolutamente sì, faccio degli esempi molto pratici, pragmatici. In questo momento di caldo mi viene di parlare da subito di irrigazione. Veneto Agricoltura ad esempio fa le giornate delle irrigazioni di precisione. Ne abbiamo appena effettuata una nella nostra azienda di Po di Tramontana dove ci siamo basati molto sull'irrigazione di quelle che sono le culture orticole o florovivaistiche e ne avremo un'altra venerdì quando attuiamo invece una irrigazione di precisione su culture diciamo cerericole, cioè di campi molto più vasti. Sempre quindi strumentazioni diciamo all'avanguardia che vengono anche con modelli di precisione che dicono all'agricoltore quando è giusto irrigare perché l'irrigazione abbia più effetto e sempre in una sperimentazione scala 1 a 1, cioè realmente. Quindi portiamo gruppi di agricoltori piuttosto che di formatori, li portiamo in giro per l'azienda, chiaramente in questo periodo di Covid con le normali protocolli di sicurezza, ma li portiamo e gli facciamo vedere realmente quello che possono loro poi fare nelle loro aziende. Quindi ci possono essere anche delle tecniche o tecnologie applicate che possono essere poi acquisite dagli agricoltori stessi, dall'azienda agricola. Perché mi piace questa agricoltura di precisione, questa irrigazione particolare perché sortisce un effetto che voi naturalmente sperimentate e avete anche certificazioni di risultato, lo voglio portare per le mie produzioni. È possibile questo? Assolutamente sì, ma non ci fermiamo solo a far vedere il risultato che questa irrigazione di precisione ad esempio ha sulle culture, ma cerchiamo anche di verificare insieme anche alle associazioni degli agricoltori e anche ai costi relativi, perché ogni tecnologia ha un suo costo, costo-beneficio. Quindi è inutile che parliamo di costi se questi non sono sostenibili, dobbiamo far vedere all'agricoltore e all'associazione degli agricoltori quali sono le tecniche di irrigazione di precisione che hanno un senso economico. È chiaro che uno dei risultati che si vogliono ottenere con queste giornate di irrigazione di precisione è anche un risparmio idrico. Questo è di fatto un beneficio ambientale fondamentale, cioè l'agricoltura riesce a consumare meno acqua né il beneficio all'ambiente. Però noi non possiamo consumare poca acqua e non avere degli effetti economici importanti. Quindi consumare l'acqua giusta e vedere quali sono i costi e quali sono le produttività dei nostri campi. Quindi far vedere all'agricoltore la realtà delle cose in qualche modo fa un passaggio in più di quello che è uno studio scientifico. Applichiamo uno studio scientifico sul territorio, diciamo l'agricoltore vedi che funziona. Oppure possiamo anche dire guarda che non funziona, ma il risultato lo otteniamo comunque. Sostante voi poi tra l'altro, alla luce anche di queste attività che svolgete, date i numeri nell'agricoltura veneta, cioè avete un ritorno di quelle che sono le varie attività produttive, periodicamente ci sono dei bilanci che vengono stilati. Allo stato attuale, in che salute sta? Qual è lo stato dell'agricoltura in Veneto? Anche se non è un momento proprio idoneo di bilanci, di solito si fa non so che verso ottobre, giù di là, però insomma mi sembra che possa essere un momento significativo. Guardi, il Veneto dell'agricoltura ha nei suoi compiti anche l'osservatorio economico, le congiunture. E noi facciamo due punti, abbiamo due momenti significativi per far vedere come sta funzionando l'economia agricola dell'anno. Una è al febbraio dell'anno successivo, e una è a giugno, come è avvenuto quest'anno. Diciamo che a febbraio ci sono delle prime stime, a giugno ci sono i dati definitivi. Cosa ci dicono questi dati definitivi? Beh, è chiaro che in questi due anni l'osservatorio economico si è concentrato soprattutto sugli effetti Covid-agricoltura. Cos'è successo durante questa pandemia nell'agricoltura? quindi il risultato che come quest'anno abbiamo superato come agricoltura veneta i 6 miliardi di fatturato e con addirittura un aumento ci dice che comunque l'agricoltura nel suo insieme non solo ha resistito ma è quasi anche migliorata in alcuni aspetti. Certo è che ci sono chiari scuri all'interno. L'agricoltura è un'area troppo vasta per essere raccontata semplicemente dicendo agricoltura. Dobbiamo vedere nello specifico settore per settore come è andato. E allora comincerei dalla pesca dove chiaramente non ha contribuito il fatto dei fermi dei pescherecci per il Covid. Quella forse più criticamente. Quella è stata colpita duramente quindi l'abbiamo vista anche ultimamente le manifestazioni anche di qualche categoria. Ma lì erano per i provvedimenti europei. Anche per i provvedimenti europei e anche per far capire al mondo che se si viene da un periodo dove si è stati costretti a non lavorare bisogna anche stare molto attenti ad attuare delle politiche successive. Non possono essere politiche ordinarie. Deve essere sicuramente una politica straordinaria. Quindi quel settore è stato colpito. Altri settori invece come la agricoltura, altri settori estensivi sono migliorati perché l'annata è andata particolarmente bene come produzione anche se i prezzi non sono aumentati. Però la redditività del singolo ettaro di cereale è migliorata sostanzialmente. Sono migliorati tanti settori. Ce ne sono alcuni come l'agriturismi ad esempio che sono stati colpiti in maniera forte. Per fortuna diciamo che l'agriturismo spesso è associato ad altre attività agricole. L'agriturismo non è fine a se stesso, non è e quindi essendo riusciti a far funzionare l'alta agricoltura il settore resiste. Sostanzialmente direi che resiste. E questo l'annata ha portato a questi chiari e scuri. Quello che abbiamo visto nel primo semestre di quest'anno si ridisegna un pochettino l'annata passata, anche questa con chiari e scuri, però insomma la ripartenza post-Covid ha aperto quei settori che come ho detto precedentemente erano stati fermati a causa della pandemia e quindi questi hanno cominciato a riprendere e in alcuni casi hanno ripreso anche in maniera notevolmente positiva. Gli agriturismi hanno ripreso molto bene le loro attività ad esempio. Poi è chiaro se noi andiamo a vedere che ci sono alcune attività che erano quelle che servivano l'oreca, cioè gli hotel e il turismo, quelle sono state colpite però non stanno riprendendo, mentre attività che invece in qualche modo fornivano il prodotto anche casalingo e quelle sono andate bene, quelle hanno funzionato e hanno mantenuto. Un dato su tutti però mi interessa a dare. Già anche l'anno passato l'agricoltura ha aumentato i dipendenti impegnati nel settore. Questo è interessante, questa cosa qua è particolare e anche interessante secondo me, perché cercavano da subito, ancora dall'anno scorso mi ricordo, iniziava la stagione della raccolta, si parlava di asparagi, anziché fragole, eccetera, e si cercavano lavoratori, perché non c'erano gli stranieri che potessero venire. Poi questo andamento è continuato nel tempo, poi c'è stata la vendemmia, poi si è proseguiti, per cui è stato un settore che ha anticipato altri ambiti nella ricerca di figure professionali, qualificate, che questo è un altro aspetto, no? Assolutamente sì, e non nascondo che Veneto Agricoltura, già la scorsa annata, aveva detto attenzione che l'agricoltura potrebbe essere quel settore che assorbe manodopera che proviene da settori che sono stati duralmente colpiti, industrie, turismo, e questo è avvenuto, per il solo Veneto, per intenderci, ci sono stati 5.000 e più addetti dell'anno precedente, quindi insomma per il Veneto... Aspita, 5.000 addetti, cioè nuove figure professionali assorbitanti, nuovi dipendenti, conto dire dipendenti, quindi manodopera, quindi insomma dati interessanti, siamo tornati a un impiego di una decina di anni fa, quando l'agricoltura insomma era molto più florida. Assolutamente, ma mi interessava, lei ha accennato il discorso della pesca nell'alto adriatico, perché è un settore molto delicato, molto critico e di cui effettivamente si parla anche poco, però l'indotto economico è stravolgente perché non è solo legato al nostro territorio, ma un po' a tutto il paese e anche a un export importante e la categoria Lecce e Nava effettivamente si è sentita tirata da una parte e dall'altra. Voi avete titolo a rappresentare anche il settore quando si parla appunto di cifre, di numeri, di nuove opportunità, di sperimentazione, perché anche qui nella raccolta del pesce ci possono essere varie tecniche, a livello europeo, perché la questione era nata proprio con l'Europa che ci stava mettendo dei, chiamiamoli paletti, in un poco conto. Noi come compito più specifico abbiamo quello di dare il dato alla Regione Veneto, cioè noi siamo un braccio operativo per dare un dato economico il più possibile realistico alla Regione Veneto. Poi è la Regione che con gli accordi, ad esempio quelli con l'alto adriatico e non solo italiani, non solo le regioni come l'Emilia e il Friuli, ma anche la parte slava dell'adriatico, fa degli accordi e ha un gruppo di lavoro, un osservatorio, che poi segnala queste cose all'Europa. Le do un dato su tutto. Noi siamo andati a controllare tutti i mercati più importanti del Veneto e abbiamo fatto notare proprio alla Regione Veneto come il mercato che è stato più colpito era quello più legato alla pesca veneta. Mentre mercati che ad esempio importano e esportano materiale etico che non viene dall'adriatico, non viene dai pescherecci della nostra flotta, flotta che è importante e flotta che non si è modificata negli ultimi 3 o 4 anni, che ha avuto una ristrutturazione nel 2010 ma adesso invece è stata mantenuta. Quindi anche lì posti di lavoro mantenuti che vanno salvaguardati e questo la Regione Veneto lo sta facendo in questo tavolo, in questo osservatorio dell'alto adriatico. Quindi quelli non legati al Veneto invece hanno avuto un andamento regolare. Quelli non legati, quelli dell'import, perfetto. Il salmone che viene pagare e consumato molto nelle abitazioni, anche durante il Covid, ha seguito un determinato sviluppo e non ha sentito bisogna fare formazione nelle persone e cultura dell'alimentazione del pesce locale. Assolutamente, ma so che la Regione Veneto sta facendo molti sforzi in questo con le associazioni di pescatori. Allora andiamo rapidamente in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo insieme e vediamo anche altri ambiti. C'è uno che mi curiosisce legato alla sempre sperimentazione legata alla pesca. Ne vediamo insieme tra poco. Grazie.